lombardia emilia romagna toscana campania e perché sto facendo i calcoli puglia sicilia sardegna abbiamo tutto cosa ci manca se siamo a cagliari facciamo una bella sera ce lo devi dire tu trave dici cosa si fa a cagliari stasera e qual è la fantasy qual è la fantasy sarda cosa succede andiamo al go fish mammutones vestiti a mammutone forti nerboruti che ti suonano le campane addosso e tu così io fossi in sardegna mi sarei assolutamente vestita da leonora d'arborea pensavo da michel amurdio a santo spirito non si sbaglia mai quindi tutti a santo spirito c'è della queerness a santo spirito quindi oggi a firenze se siete a firenze andate a santo spirito che c'è mao che vi illustra un po le situazioni c'è morigo c'è morigo in svezia totalmente totalmente invece poi aspettiamo anche se vuoi poi a milano sappiamo che c'è il toilet un altro posto dove non si sbaglia come sta andando questo luca comics c'è qualcuno che ci può fare un insight e ci dice se ne sta valendo la pena io non sto vedendo tante storie come lo stand di elden ring scusate ma voglio sapere io sono volandone mickey murgia mickey murgia che ci sta seguendo in questa diretta grazie grazie per il follow per il versamento su paypal è stato veramente utile per creare questo macchinaccio noi siamo troppo streamer comunque cioè nel senso quando siamo in qualsiasi piattaforma andiamo andiamo su grazie per la follo grazie tanto se volete donare donare ad avanguard ricordatevi che in qualunque chiesa nella cassetta delle offerte no quelle vanno ad avanti e però cosa si può fare in chiesa grazie c'è l'acquastantiera digitale michael esatto conoscete l'esistenza dell'acquastantiera digitale michael andate a googlare acquastantiera digitale michael non adesso dopo e poi esatto e poi ci ringrazierete dopo poi so che a napoli allora a torino a torino c'è il quiver dove potete vedere un'altra partecipante all'altro a quel programma lì quindi ciao mao fai una buonissima serata grazie a torino c'è la bionic che mi fa il quiver e qua non ci piove poi a napoli c'è la divinity che non mi ricordo per che serata fa precisamente però andate nei profili che state seguendo sicuramente con che grazie 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 mille comunque sicuramente in questa noce de halloweener de mocissima sorpresa c'è un sacco di cose da fare io direi stacchiamo ok sono le 8 quindi abbiamo proprio l'ora giusta per prepararci buon halloween è stato un piacere è stato un onore mi raccomando ricordate il televoto non c'è il televoto ma sostenete e supportate le drag locali sempre always always con i bigliettoni ricordate che vicino a voi quando meno ve l'aspettate c'è una drag queen esatto è una drag king una una fab queen gente che fa cose macche quindi stringete la borsetta perché mondia a casa che aspetta andiamo a finire la preparazione ci vediamo nelle stories e non 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 ti delido te lo giuro bali non ti deliderò ma non ti deluderò nemmeno baci se siete a roma largo venue che c'è una sorpresona no c'è de sorpresa muta sorpresa baci a bracci e buona carla stracci e carla stracci che salutiamo come si fermano le no no guarda come si fa no ma no ma la sono a x a x